Come direbbero gli americani, he's back! Rajan Angolan torna a Cagliari, aveva detto che sarebbe rimasto, poi non è successo, è dovuto tornare all'Inter per non giocare praticamente, e adesso torna al Cagliari, è di nuovo qua con noi, ha cambiato gli stati nei suoi profili social, ha confermato così quella che era l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport e dal 4 di gennaio, tra pochi giorni, sarà quindi a disposizione di Mister Di Francesco e poi magari potrà giocare col Benevento il 6 di gennaio. È un grandissimo colpo quello dei Cagliari, un po' perché ce lo si attendeva, Di Francesco ha aspettato tantissimo l'arrivo di Rajan, era uno dei punti cardine già da quest'estate del suo progetto, e poi perché abbiamo saputo del problema, ha corso a Rogue la rottura del crociato ed è quel tipo di infortunio che ti tiene fuori per un bel po', e soprattutto è quel tipo di infortunio che in qualche modo potrebbe cambiare anche il modo di giocare del croato. Però adesso, in quel ruolo, al fianco di Marine, avremo Rajan e Nengolan, anche se non basta. Cioè, Nengolan è un leader, con Godin aiuterà tantissimo la squadra ad uscire fuori da quelli che saranno gli ostacoli che verranno incontrati da qui alla fine dell'anno, però non basta perché a centrocampo la coperta è ancora corta, il Cagliari sta trattando un po' di giocatori, sta avvaliando diverse alternative, si è parlato di Burabià, anche se è soltanto un sondaggio, anche perché il Sassuolo vuole tanti soldi e in questo momento il Cagliari vuole lavorare su altri piani. Un altro piano può essere quello che potrebbe farci arrivare a Duncan, che è sicuramente un giocatore di grandissima prospettiva, soprattutto dal punto di vista del gioco che Cagliari sviluppa intenzionalmente in ogni partita. Avere Duncan significherebbe però perdere una pedina, perché a questo punto l'idea dello scambio con Pavoletti, la Fiorentina ha puntato Pavoletti per raffiancarlo a Vlaovic, si fa sempre più interessante e importante. Vedremo se quella sarà la chiave di volta, però Duncan è uno dei profili da mantenere sott'occhio. Ovviamente ci potrebbe essere la fuoriuscita di Caligara e l'arrivo di un altro centrocampista a quel punto, perché comunque non cambia nulla, nel senso che Toglirog e Caligara arrivano in Angolan ed eventualmente Duncan e quindi la coperta rimane corta. Da non sottovalutare il possibile ritorno di Deiola, come capita di solito a gennaio. Per quanto riguarda il resto del mercato, Icali deve pensare soprattutto a vendere un po' di giocatori, anche se in prestito. Quindi stiamo parlando ovviamente di Pinna, stiamo parlando di altri giocatori che hanno bisogno di giocare, di farsi vedere, probabilmente anche di Tramonì, anche se questo movimento potrebbe togliere a Di Francesco un giocatore, però da quel lato Icali sta facendo vari ragionamenti. Sicuramente Lico Giannis rimarrà come titolare, il nuovo arrivato Reynolds, o meglio il possibile prestito di Reynolds, può tornarci utile sia sulla fascia in difesa che soprattutto più avanti, perché l'idea di Francesco è quella di utilizzare Zappa e Reynolds come delle frecce ai lati, quindi magari confermando anche la difesa a tre. Questo è tutto da vedere. Potrebbe partire Pisacane, ha tantissime richieste e anche lui vorrebbe giocare un po' di più e ovvio che un giocatore del genere voglia giocare un po' di più. Potrebbe arrivare un terzino destro? Forse sì, forse no. Ci sono dei ragionamenti in corso? Probabilmente alla fine verrà confermato Zappa, verrà confermato Faragò, nel momento in cui, almeno a centrocampo, ci saranno più alternative e quindi questo significa poi non avere problemi dietro, in questo senso. Poi per quanto riguarda il reparto avanzato, qualcosa potrebbe succedere. Potrebbe succedere anche se dipende soprattutto dai profili che possono essere utili. Abbiamo capito che Nandez giocherà a lato, giocherà a lato destro e lì sarà il giocatore più importante. Con un ass subito sulla riserva, sottile dall'altra parte, ha bisogno di un altro giocatore da quel lato che gli possa dare manforte. Non può essere Tramonì, che ha in qualche modo dimostrato di essere un po' acerbo. Potrebbe non essere Rodriguez, per il quale la situazione è un po' più complicata di così. Potrebbe però arrivare qualche giocatore dalla Serie B che ci aiuti ad avere soprattutto una riserva, più che altro. Non altro. Però il Cagliari, diciamo così, inizia il 2021 con un po' di prospettive per quella che dovrà essere la stagione che ci permetterà poi di salvarci e magari di ottenere qualcosa di più. Forse sono più ottimista io, però in effetti questa squadra così anche con Angolan deve pretendere qualcosa di più. Vedremo già a partire dalla gara con Napoli di domenica e sperando che insomma il nuovo anno ci porti qualcosa di interessante. Tanti auguri a voi e speriamo che i colori rosso-blu tornino a volare in alto.